Buongiorno a tutti, allora il tip di oggi nasce da una richiesta che mi è stata fatta nei commenti una richiesta assolutamente interessante che riguarda i contatti di Joomla e i campi aggiuntivi se vi ricordate abbiamo già fatto un video in cui spieghiamo come andare a mettere dei campi aggiuntivi dentro un modulo di contatto di Joomla, di un forno di contatto di Joomla quello che però non abbiamo visto è come faccio se io devo creare due moduli contatto e mettere dei campi aggiuntivi diversi nei due moduli quindi magari in uno chiedo nome e cognome, nell'altro chiedo l'azienda, la partita IVA eccetera eccetera si può fare ovviamente sempre con i campi aggiuntivi e con le categorie nel senso che io posso dividere i miei contatti in categorie diverse e agganciare questi campi aggiuntivi alle singole categorie se vi ricordate questa è una cosa che si fa spesso con i campi aggiuntivi degli articoli ma in realtà non si fa spesso perché è difficile magari avere due, tre, quattro, dieci fan di contatto sul sito diversi ma in realtà esistono le categorie anche per i contatti quindi andiamo al volo a vedere come si fa e poi lo testeremo direttamente sul sito creando due voci di menu dirette e andiamo a vedere quali sono le differenze a questo punto qua la prima cosa da fare abbiamo detto è andare in componenti, contatti, categorie di contatti creiamo due categorie, magari contatto li chiamiamo per esempio uno sarà contatti B2B, business to business, contatti quindi verso per le aziende e l'altro invece lo chiameremo contatti B2C, quindi business to customer abbiamo due categorie diverse, eccole qua, uncategorize che è quella standard, classica che esiste sempre in Joomla quando installo un nuovo Joomla e poi avrò due nuove categorie che ho appena creato andiamo nei contatti togliamo questo contatto di prova che non ci interessa creiamo un nuovo contatto e scriviamo sei un'azienda contattaci lo mettiamo nella categoria B2B e inseriamo in realtà di tutto quello che ci serve l'unica cosa importante è la mail quindi la chiamiamo per esempio B2B prova chiocciola pixel.it è una mail che non esiste ovviamente ma mi serve solo per fare il video e poi creiamo anche un nuovo contatto e lo chiamiamo sei un privato contattaci possiamo chiamarlo come ci pare mi serve solo per far capire di che cosa stiamo parlando e anche questo lo chiamiamo B2C prova chiocciola pixel.it e lo mettiamo assolutamente importante nella categoria contatti B2C salviamo e chiudiamo a questo punto abbiamo due contatti diversi in due categorie diverse andiamo ad aggiungergli dei campi aggiuntivi quindi clicchiamo su campi aggiuntivo mettiamo modulo email di contatto mi raccomando e ne clicchiamo uno nuovo e in uno chiediamo per esempio il codice fiscale testo mi va benissimo non metto tutti i vari controlli eccetera eccetera e lo mettiamo nella categoria B2C mentre invece mettiamo partita IVA sempre testo nella categoria B2B possiamo anche aggiungere per esempio un campo comune che lo chiamiamo indirizzo di testo categoria tutti quindi sarà sia per B2B che B2C eccetera eccetera molto bene a questo punto andiamo a testare e vediamo se questa cosa funziona prendiamo il nostro main menu andiamo a creare una nuova voce di menu e la chiamiamo contatti B2B e abbiamo quindi contatti singolo contatto lo selezioniamo e abbiamo se è un'azienda contattaci è il B2B e poi abbiamo contatti B2C seleziona contatti singolo contatto B2C salviamo a questo punto che cosa abbiamo nel nostro menu principale abbiamo due link verso due contatti diversi che uno è contatti B2B e contatti B2C e andiamo a vedere come saltano fuori eccolo qua andiamo a vedere contatti B2B avremo un modulo con nome email oggetto messaggio soliti partita IVA e indirizzo andiamo a vedere ecco qua che si vedono meglio partita IVA e indirizzo andiamo a vedere invece contatti B2C nome email oggetto messaggio campi aggiuntivi codice fiscale e indirizzo quindi abbiamo visto che questi campi aggiuntivi cambiano a seconda della categoria che ho scelto non sono scrivibili perché vi ricordate che avevano detto che dobbiamo settarli in modo che anche public possa modificarli facciamolo giusto per completezza quindi torniamo in componenti contatti campi aggiuntivi andiamo modulo email del contatto sempre codice fiscale facciamo in modo che nei permessi anche public possa modificarlo quindi anche chi non è loggato può scriverci dentro qualcosa andiamo a modificare anche partita IVA quindi permessi consentito e aggiorno indirizzo permessi consentito e aggiorno andiamo ad aggiornare la nostra pagina ed ecco che campi aggiuntivi sono scrivibili allora la scritta campi aggiuntivi non ci piace già che ci siamo già che stiamo facendo il video facciamo anche questa cosa qua come faccio a cambiarlo cambiando l'etichetta cambiando il questo qua quello che viene chiamato il gruppo di campi il gruppo di campi aggiuntivi posso creare un nuovo gruppo qua mi sono sbagliato perché stavo creando un gruppo per contatto invece bisogna ricordarsi mettere sempre modulo email del contatto perché altrimenti diventa un campo aggiuntivo proprio per il singolo contatto quindi per un'informazione aggiuntiva del singolo contatto creiamo un nuovo campo e lo chiamiamo per esempio informazioni aggiuntive per cliente una cosa del genere è giusto per far vedere la differenza se noi andiamo a vendere andiamo a prendere i nostri contatti i nostri campi aggiuntivi sempre in modulo email del contatto possiamo decidere di metterli all'interno nel gruppo di campo informazioni aggiuntive per contatto ecco facciamo così per esempio codice fiscale partita IVA lo mettiamo nel gruppo informazioni aggiuntive per il cliente e se noi andiamo ad aggiornare vedrete che i campi aggiuntivi sono suddivisi per gruppo quindi campi aggiuntivi che non è stato settato vedete che indirizzo non è settato non è su un gruppo finisce sotto un generico campi aggiuntivi le altre invece sono informazioni aggiuntive per il cliente quindi magari possiamo anche inserire per la partita IVA per l'indirizzo creiamo un altro gruppo sempre modulo e lo chiamiamo tipo informazioni residenza barra sede andiamo sempre nei nostri contatti campi aggiuntivi modulo email indirizzo noi inseriamo anche questo non più in informazioni aggiuntive per cliente ma informazioni residenza sede in questo modo qua se io aggiorno eccolo qui avrò informazioni aggiuntive per cliente codice fiscale informazione residenza sede avrò un indirizzo se vado in contatti B2B avrò sempre nome email oggetto messaggio poi avrò anche partita IVA e indirizzo quindi anziché il codice fiscale avrò la partita IVA perché? perché l'ho scelto tramite la categoria anche i contatti hanno una categoria e quindi posso scegliere sui campi aggiuntivi quale far partire su una categoria e quale far partire su un'altra e anche questi campi aggiuntivi adesso magari vi rimando all'altro video dove è spiegato un po' meglio possiamo decidere di mettere gli obbligatori mettere dei controlli fare in modo che siano i controlli di indirizzo email o alfanumerici eccetera eccetera quindi funzionano come tutti gli altri campi aggiuntivi di Joomla quindi la possibilità di mettere un'altra textarea insomma non abbiamo limiti sono dei campi aggiuntivi pari pari come quelli degli articoli semplicemente sono agganciati ai contatti bene direi che è tutto era un video molto veloce ma importante perché ho visto che già qualcuno me l'aveva chiesto e speriamo di aver risolto anche questo dubbio qua benissimo grazie a tutti buona giornata e buon lavoro